Ciao a tutti! Oggi prepareremo la focaccia ai 7 cereali. Il tempo di preparazione della ricetta è di 4 ore circa. Gli ingredienti sono farina ai 7 cereali, zucchero, lievito di birra fresco, olio, acqua, sale fino, sale grosso, rosmarino e olio. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua, il lievito e lo zucchero. Ed azionare il bimbi per 2 minuti, 37 gradi, velocità 3. Aggiungere la farina ai 7 cereali, il sale e l'olio ed impastare in modalità spiga per 4 minuti. L'impasto è pronto, trasferire in una ciotola unta con olio, coprire con pellicola trasparente e lasciar lievitare in forno spento con luce accesa per 2 ore. Trascorso il tempo, abbiamo ripreso l'impasto che è ben lievitato, adesso lo trasferiremo su una teglia rivestita con carta da forno e lo stenderemo con le mani. Lasciare lievitare in forno spento con luce accesa per un'altra ora. Trascorso il tempo, adesso praticare dei fori con i pastrelli. Spennellare la superficie con olio. Mettere il rosmarino e il sale grosso. Cuocere in forno preriscaldato statico a 200 gradi per 20-25 minuti circa. La focaccia è cotta, serviamola. Focaccia ai sette cereali. Grazie e alla prossima ricetta! Focaccia ai sette cereali. Grazie a tutti!